Due ore di sciopero alla fine di ogni turno ai presidio davanti ai cancelli dalle 12 alle 14 di venerdì mattina. In questa maniera i dipendenti del baricolevo del sito di San Sisto a Perugia hanno protestato contro l'intenzione dei vertici aziendali di interrompere l'attività dello storico torrefattore del cacao, dal 1966 simbolo e peculiarità del sito di San Sisto. L'iniziativa adottata dalle segreterie di Fai Cisle, Flai CGL Umbria e dalla RSU di Barrico Lebo punta ad un incontro con la multinazionale per ottenere maggiore chiarezza e soprattutto garanzie in merito ai progetti futuri per mantenere la strategicità di un sito così importante come quello perugino. Noi pensiamo che sia necessario approfondire meglio l'argomento con l'azienda e tenerlo aperto, in quanto è una particolarità che non possiamo lasciarci sfuggire. Per il momento non sono stati dichiarati esuberi, tuttavia riteniamo che nel caso in cui ci fosse un cambio di produzione si passerebbe all'utilizzo di fusori invece che del torrefattore sarebbero reimpiegate meno persone, di conseguenza i lavoratori attualmente occupati al torrefattore verrebbero redistribuiti all'interno dell'azienda creando chiaramente meno prospettive e eventuali posti per i lavoratori futuri che entreranno e per i lavoratori interinali che sono in questo momento impegnati all'interno di Barri in maniera temporanea. Grazie.